Nella città di Pescara insistono due sedi di proprietà di Regione Abruzzo, una in via Raffaello e un'altra in via Alebovio. Queste sedi di qualche anno sono state sgomberate per consentire la messa a norma delle stesse. Purtroppo, dallo sgombero dei dipendenti ad oggi, sono passati diversi anni, le sedi sono lì a fare bella mostra di sé, completamente abbandonate in stato di grave fatiscenza. Quindi, nonostante la proprietà di queste due sedi, Regione Abruzzo cosa fa? Nel 2011 fa due delibere, crea due gruppi di lavoro per reperimento di immobili da privati da acquisire al patrimonio regionale o prendere in affitto per realizzare la nuova sede unica della Regione e un altro avviso per reperire temporaneamente una sede dove trasferire i dipendenti di via Alebovio e via Raffaello, dimenticandosi che i dipendenti erano già stati allocati in altre sedi. Il punto è questo, che a oggi si sta ancora mandando avanti queste procedure, hanno individuato anche per una, avrebbero individuato il palafiere di via Tirino, ma non solo. Io chiedo con forza all'assessore regionale Guido Liris di prendere in esame un progetto che era stato fatto dal servizio risorse della Regione Abruzzo, che prevedeva la ristrutturazione appunto di via Alebovio e via Raffaello, la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche un eventuale aumento di volumetria per fare lì una cittadella della Regione Abruzzo e quindi risparmiare tanti soldi rispetto a dare sul mercato da un privato per acquisire un qualcosa di cui non abbiamo bisogno perché ce l'abbiamo all'interno del patrimonio regionale. Purtroppo questo progetto non è stato preso in esame, mi auguro che venga presto fatto per l'interesse generale, l'interesse collettivo, risparmiare soldi e valorizzare il nostro patrimonio immobiliare interno. Perché questa volontà di rivolgersi al mercato secondo lei? Beh, veramente allucinante, follia pura, avendo delle strutture di proprietà, si lasciano, si preferiscono lasciarle così cadenti in abbandono e in grave stato di faciscienza e rivolgersi poi al mercato, andare verso i privati e chiedere delle sedi per la Regione Abruzzo.